Salve signori, oggi come rigorosamente succede siamo nuovamente dall'alto dei cieli. Allora, parliamo di qualcosa che chiunque si affaccia al mondo dei mercati sportivi vuole sapere, e cioè quanto puntare sui mercati sportivi. Allora, iniziando questo discorso, ho sempre quei rigorosi 2-3 minuti di tempo, iniziando questo discorso devo dirti assolutamente che devi prestare attenzione alle percentuali. In questo discorso ovviamente rientra il money management, la gestione del capitale, la gestione del rischio, e che quindi non dovresti mai investire più dell'1-2% a puntata. Questo vuol dire che non devi assolutamente farti condizionare dal capitale che hai a disposizione. Questo vuol dire che se hai un capitale di 500 euro o di 10.000 euro, dovresti rispettare, nella maggior parte dei casi, questa regola, cioè di non superare l'1-2% a puntata operazione. Personalmente, parlando appunto di money management, di gestione del capitale, io consiglio molto spesso l'anti-martingala. Ecco, anche qui anti-martingala all'1%, massimo 2%. Questo è molto importante perché ti permette di avere una gestione oculata, precisa, del tuo capitale, senza prenderti troppi rischi, e ovviamente cercando in tutti i modi di andare a ottimizzare quelle che sono il rendimento del tuo capitale. Quindi questo vuol dire che se hai un capitale di 500 euro, investire l'1% vuol dire investire 5 euro. Investire il 2% vuol dire sostanzialmente investire 10 euro. Questo esempio è molto pratico e serve proprio per spiegarti in maniera viva, posso dire in maniera dettagliata, sul campo come è possibile o come dovresti gestire le tue puntate sui mercati sportivi.